Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo, che offre già tante comodità agli sciatori, ha ora una nuova slittovia, capace di trasportare 15 persone, superando un dislivello di circa 250 metri, con una pendenza del 45%, in soli 3 minuti e 12 secondi. Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo Cortina d'Ampezzo